Al Conad di Montecchio Al Conad di Montecchio Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini ceramiche, sempre al vostro servizio. Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi. Cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Buonasera a tutti i telespettatori e gli amici di Insieme a Canestro e benvenuti all'ascolto della sedicesima puntata della nostra trasmissione. Sanremo o non Sanremo, noi stasera siamo qua e siamo convinti che sarete in tanti anche a casa perché questa sera si parla di basket, si parla della nostra WL e ci sono veramente tantissimi argomenti, tanta carne al fuoco. Quindi un saluto a tutti i telespettatori e vi ricordo che potete seguirci sul canale 80 di Rossini TV visibile in tutta la regione, sulla nostra pagina Facebook e in streaming sulla nostra app che vi invitiamo a scaricare. Potete seguirci anche sul sito internet di Rossini TV. Come sempre un ringraziamento ai nostri sponsor, Conad Montecchio, Macchini Ceramiche e Banca di Pesaro. E adesso passo a presentarvi gli ospiti, io sono molto contenta questa sera perché è arrivato da poco e quindi è anche un modo di dargli il benvenuto in città e di farvi conoscere meglio. Marcus McDuffie, ala della Carpegna Prosciutto. Ciao, ciao. Ok, aveva promesso che almeno ciao ve lo diceva in italiano, adesso qualche altra parola la imparerà presto. Un ragazzo veramente a modo e tanto simpatico e insieme questa sera a Giovanni Bruscia, che farà come sempre la traduzione simultanea e lo ringraziamo per il suo lavoro prezioso, abbiamo rinvitato a grande richiesta Raffaele Vitali, giornalista e grande amico. Grazie Betta, buonasera a tutti e benvenuto Marti. Benvenuti a tutti, adesso passo la parola a Giovanni Zid, anche quest'anno è lui, a indicarvi come mettervi in contatto con noi per fare le vostre domande e rispondere anche al contest che lanceremo fra poco, anche questa settimana. Non metteremo in palio biglietti perché la prossima partita in casa si gioca il 3 marzo e quindi chi indovina i contest di questa sera si porta a casa la sciarpa griffata della WL. Vai Giovanni. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo live in diretta. Ricordo come sempre il numero WhatsApp 370-366-7210 oppure potete commentare la diretta Facebook di Rossini TV. Anche oggi il contest che vede la sciarpa qui alla mia sinistra, griffata WL Pesaro, capitale della cultura 2024, un contest che riguarda proprio il nostro ospite qui in studio oggi. L'8 maggio 2022, ultima di campionato, la WL vinse a Napoli la partita decisiva per andare ai play-off. Vogliamo sapere il risultato della partita e quanti punti segnò McDuffie che all'epoca giocava nella GV Napoli. Ok, bene, molti di voi si ricorderanno di Marquis le due partite contro la WL. Napoli venne a vincere a Pesaro e poi invece all'ultima di regular season Pesaro andò a sbancare il campo partenopeo in una partita tanto importante con un tappino all'ultimo secondo di Doron Lamb che consentì alla WL di andare ai play-off. Quindi allora andate a cercarvi il risultato di quella partita e anche quanti punti segnò McDuffie. E noi siamo pronti per cominciare a parlare di questa serata che vicino a Napoli ci ha regalato purtroppo una beffa di quelle pesanti. Ha scafati Marquis un vero peccato dopo aver tenuto in pugno la partita per 38 minuti ci è sfuggita. Andrea se vuoi mettere in onda le immagini eccole qua questo è McDuffie bellissimo questo tiro da tre punti in equilibrio su un piede solo con la sua fascetta nera. Ecco volevo chiederti se puoi commentare appunto questa sconfitta un po' così bruciante e poi se è bella questa schiacciata e poi se ci puoi raccontare anche l'ultimo tiro, il tuo ultimo tiro, come lo avete costruito e se avresti voluto tentare qualcosa di diverso. Io credo che abbiamo avuto un migliore esforzo in termini della settimana prima di Brindisi. Abbiamo lavorato molto forte in pratica, è stato molto intenso, quindi siamo pronti per arrivare a sconfatti e giocare molto forte e spero di ottenere una vina. Credo che a l'inizio del gioco abbiamo fatto alcuni errori dove abbiamo finito il gioco e ciò per l'inizio, soprattutto per l'inizio di giocare. E' stato difficile da vincere, devi essere molto perfetto, perché la gioco può andare in loro favore. E' stato fatto, e io credo che hanno fatto l'unico e sono stato potuto per l'inizio. E' stato fatto la ultima sconfitta, io penso che la rifa mi ha fatto il gioco, ma è stato fatto. E' stato fatto la sconfitta? Sì, mi ha rubato proprio lì, ma i ragazzi si è riusciti, quindi non credo che si può vedere, ma non credo che probabilmente si avrebbero chiamato. Non dovremmo arrivare a questo punto, credo che potremmo finire il gioco forte, ma continueremo a studiare e spero questa settimana cerchiamo di ottenere un vincitore. Sono stati più cattivi, anche in allenamento, sì, è stata una sconfitta pesante, perché comunque siamo stati 38 minuti abbondanti in vantaggio, poi purtroppo non siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Sicuramente il finale è stato abbastanza intenso, per non dire caotico, perché comunque è vero, ha tentato comunque di entrare in un'azione abbastanza personale, cercare di riconoscere una vittoria, non ci è riuscito. Ha parlato un po' anche magari del fatto che l'arbitro è caduto nell'ultima azione, quindi magari non ha visto forse potenziali falli su di lui, quindi è stato un po' diciamo... Bello sgambetto di buoni soldi, eh! È stato un grosso peccato e lì, diciamo, in quelle situazioni, soprattutto in un campo caldo come Scafati, in quella situazione era da essere quasi perfetti, purtroppo ha detto che ce ne sono stati piccoli errori che purtroppo gli hanno pagato caro. Senti, Raffaele, secondo te queste partite si perdono paradossalmente proprio per la non abitudine a vincere? Perché sai, quando sono sei di fila, un blocco mentale, soprattutto una partita punto a punto, cominci a pensare magari non ce la faccio neanche stavolta. Guarda, questo mi pare un dato reale, nel senso che poi lo dici... Normalmente la cabola della pallacanestro, perché non vincere ti aiuta a non vincere, cioè un semplice dato, perché quella palla diventa pesante. Vengono meno determinate alchimie, le gerarchie e dobbiamo sempre ricordare che questa è una squadra che è cambiata in corsa. Ti ricordi, ne parlammo l'altra volta che ci vedemmo, insomma, sul fatto che si cercava di capire chi era il leader a cui dare quella palla, no? Il famoso go to guy, magari poi McDuffie può dirci anche se può essere lui questo giocatore, se sente di avere questa forza in sé. In questo caso l'abbiamo visto, gli ultimi quattro minuti, betta, cioè sono stati due punti segnati dalla lunetta. Cioè questo qualcosa significa, sono stati tiri a volte affrettati, a volte costruiti male, tiri rinunciati. Perché insomma, sicuramente è una squadra che deve riequilibrarsi anche da questo punto di vista. Poi sull'ultimazione c'è tanto da dire, magari forse si poteva giocare dando la palla a qualcuno che era in quel momento più in palla, uno che è abile a cercare i falli, si è scritto, si è detto, un po' tutti, no? Poteva invertirsi, Cinciarini che la prendeva e andava dentro perché quello lo sa fare bene. Chiaro che quando c'hai 6-7 secondi alla fine non è che puoi ragionare tanto, però è una squadra che chiaramente ha mostrato quella mancanza, quel piccolo timore quando è arrivata a un passo dal traguardo, perché 38 minuti e mezzo in vantaggio e poi perdi, insomma, fa male. Volevo chiedergli, sui 0 su 2 dalla lunetta di Pinkins, non abbiamo preso subito il rimbalzo, no? C'è stato quel tuffo suo con Rossato che ci ha fatto perdere almeno 3 secondi, perché quando Pinkins è andato in lunetta ne mancavano 9. Assolutamente. E tra 9 e 6 c'è una bella differenza, quindi abbiamo avuto 3 secondi in meno per attaccare. E per fortuna che lui si è tuffato perché altrimenti manco la rimessa ci avevamo. Diciamo che ha rimediato anche a un momento di defaianza sul rimbalzo. Sì, sì, esatto. Sì, al final del gioco, abbiamo bisogno di essere migliori e figure out, come ho detto, abbiamo bisogno di essere perfetto, come si è giocato, abbiamo bisogno di essere migliori, abbiamo bisogno di essere migliori, abbiamo finito il gioco, perché abbiamo avuto un gioco. C'è un gioco, come si è preso, abbiamo bisogno di essere migliori, un'altra cosa che faccia con la team, abbiamo bisogno di essere migliori. Quanto che succedeva prima, abbiamo in here, e ora che vediamo, abbiamo bisogno di essere migliori. Ciò che devo essere migliori, abbiamo bisogno di essere migliori in questa situazione. che potrebbe essere scala, un'esercizio, 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 quindi puoi scendere molte cose. La prossima partita a Variese sicuramente però ci fa male, aver perso di uno, aver perso di uno con quel finale così, quindi sicuramente dovremmo far meglio. Posso chiedigli una cosa? Lui è entrato in una squadra che è in corsa nuova, sei già capito che c'è un leader, ovvero se la palla della vittoria deve andare in mano a Bamford, o lui può essere quell'uomo? Anche perché i palloni che ha avuto Bamford negli ultimi minuti purtroppo non sono dati buon fine. Anche se mi hanno detto che c'è stato un fallo sulla palla persa da Bamford dal passaggio di Cinciarini, poi vedremo di magari commentare anche questo. Prego Marlies. Oh yes, for sure, I think I can be the go-to guy, but we have a lot of other players that can shoot the ball, can make shots, you know, I think, you know, he brought me here to be a guy to, you know, make a huge impact on the team to help us, you know, win some games, so I will hope to be a go-to guy in this situation, if I have to be, you know, if not, you know, there's other guys on the floor that I can as well, you know, but I just want to be able to, you know, go out there and just make an impact on both sides of the floor, whether it's being a go-to guy or just being a guy to help us, you know, get over the top. Dipende dalle situazioni, però sicuramente posso essere anch'io il go-to guy di questa squadra, nonostante io sia arrivato da poco, ma come posso essere io, possono essercene altri, quindi questa squadra può avere anche altri leader, magari temporanei in una partita, e penso ad esempio magari a quei giocatori che comunque sono fatti di un buon tiro e che possa avere un grosso impatto sulla partita, però sicuramente anche in base alle situazioni io posso essere il giocatore da cui andare nei momenti che contano. Allora, completiamo diciamo un po' la conoscenza di Marquis, vi chiediamo un po' di pazienza perché lo sappiamo che volete sapere e volete parlare, volete mandare le domande anche sulla conferenza di Ario Costa, che ieri è dato l'addio alla VL, chiaramente l'argomento principale della serata, però abbiamo un ospite e per essere ospitali nei suoi confronti dobbiamo coinvolgerlo e parlare un po' con lui e quindi vorrei che Andrea mandassi in onda altri highlight che riguardano McDuffie, e noi stiamo cercando di, questa è con Brindisi, la partita con Brindisi, stiamo cercando di scoprirti come giocatore e nelle prime due partite ci hai fatto vedere già delle cose interessanti ma probabilmente non ancora tutto il tuo repertorio. Cosa dobbiamo aspettarci ancora da te nelle prossime gare? Cosa possiamo aspettare da te nelle prossime gare? Well, you know, this is my first time playing in the real game in the last, you know, month and a half or so, coming from my last team. So right now I'm trying to get back in full shape, you know, to be able to, you know, be the best I can be throughout the whole game. You know, right now I'm still working my way up and hopefully, you know, week by week I can get more and more in shape to playing, you know, so that's what I'm working on right now, you know, but as a player, you know, I think you've seen pretty much a glimpse like with my first basket I scored here, you know, that I can put the ball on the floor, I can create, you know, I just have like a talent where at my height and my size and at my position I can be a mismatch at my position and hopefully, you know, the more I play and the more time that I get, I'm able to show that throughout the whole course of the game, not just, you know, in the beginning or in the middle, I want to be able to show it throughout the whole game, you know, so I think, you know, a few of my baskets, you know, a few of my plays that I've made so far, you can kind of see a glimpse. I'm just ready to do that for a longer extended period of time right now. So, I think me getting back in that game shape condition, you know, I think, you know, you know, as each game goes on, I'm just going to continue to build and get better and, you know, want to help this team get a win, I think that's the biggest thing, so. Sicuramente va considerato che queste per me sono le prime partite da ritorno in azione perché comunque sono stato fermo circa un mese e mezzo, quindi sono arrivato qui in Italia, qui alla VL, il campionato è sicuramente molto intenso e di livello, io devo cercare di apportare il mio contributo a questa squadra, quindi quelle che sono anche le mie qualità di mettere in campo quelle che sono le mie capacità, sono realizzatore ma sono anche in grado di creare per i miei compagni, quindi devo cercare di integrarmi sempre di più con loro e questo processo sta andando bene, però sicuramente devo ancora capire come rendere al meglio in termini anche di posizione in campo, però è un processo costante e sicuramente l'obiettivo è quello di vincere i più partiti possibili per aiutare questa squadra e questo club a raggiungere l'obiettivo. Sì, anche perché l'ultima partita sua era stata il 2-3 dicembre mi pare, quindi dopo poi è tornato a casa e anche se uno dice sì mi sono allenato nel mio college, però insomma non è mai come giocare le partite, no? Senti Raffaele, Sacchetti ha scelto di schierare questo quintetto un po' grosso diciamo, con Quincy Ford da numero 3 accanto a McDuffie, con Bluiett come arma tattica dalla panchina, non mi sembra che sia andato male, no? Allora, in parte ha stupito insomma perché potrebbe essere anche una scelta strategica del coach e devo dire che io vedo più un Sacchetti che potrebbe utilizzare Ford quasi da 5, diciamo, nella sua logica e quindi insieme anche a McDuffie e Bluiett, poi magari Bamford e Cinciani, tra l'altro anche questo si è visto per qualche minuto per la propensione che lui ha. Diciamo che con questo nuovo assetto Pesaro ha da un punto di vista tattico e fisico guadagnato, perché ha dei giocatori intercambiabili quasi sovrapponibili, infatti è una cosa che mi incuriosirebbe anche magari McDuffie poi ce lo può dire insomma perché lui sembra un po' un mix tra Bluiett e Ford, quindi anche capire come lui si può inserire in questa squadra. Lui nella prima intervista che io gli feci al palazzo disse che nella sua carriera è stato utilizzato sempre da quattro ma che non ha problemi a giocare anche da tre. Esatto, quindi sarebbero quasi tre gemelli perché anche Bluiett ha dimostrato che può andare spalla a canestro quando incontra un esterno più piccolo. Io sarei sempre attento per i Sacchetti a capire come usare al meglio tu te ancora. tu ce l'hai questo pivot, quindi secondo me va un attimo inserito con i tre americani che insieme possono fare grandi cose. Possiamo provare a chiederglielo come si è trovato con Ford da tre e eventualmente scambiarsi anche ruolo visto che occupano la stessa posizione ma Ford comunque a piedi veloci perché ho visto che ha marcato Jefferson contro Sassari quindi insomma. I think we work well together, I mean like I said I just got here so you know the core guys have to learn how to play together you know we're doing that in practice I think those two guys right there we complement each other well you know especially the way blue shoots the ball and be able to put it on the floor shoot with quickness and Quincy you know me and him have similar games in terms of our height you know shoot the ball put it on the floor you know use our length to play defense I think we work well together and I know this is a tough part of the year where you know we're losing right now we're trying to change but at the same time I'm still trying to learn how to play with my teammates you know and in the fire so you know this is this is a challenge but I hope you know we're trying to pick it up as quick as possible because I really like these guys I have no issue with none of these players and I think we can do something you know special towards the end of the year we just have to stay locked in and hopefully you know change some things I think I think I think I'm good with Trevon and Quincy in the field we are very well even if we play together with a little bit because at the end I am the last arrived and also here it is a process of knowledge reciprocity and constant and constant but anyway it is beautiful because maybe one of us three tries to create situations dangerous for the adversaries while the other or the other two port a little bit of speed but certainly I'm not sure that I am good at all right now I'm not sure that I am going to do it a first pass with social so let's see you in the middle of the beginning we have a question that we have to do with a question for Raffaele don't you think that you want a new one of our ideas and a play penetrator for help us on our McDuffie Giorgio Dapesa Allora su questo tra l'altro potremmo aprire anche la discussione di tanti aspetti sul fatto di rinforzare la squadra o meno anche qui insomma quando si dice un lack of communication non abbiamo soldi poi in realtà i consorzio ce li abbiamo diciamo che questa squadra ha bisogno di punti cioè forse uno dei grandi problemi che ha questa compagine è fare canestro ogni tanto si accendono così a turno però insomma una guardia realizzatrice secondo me servirebbe una guardia che potrebbe aiutare anche ad esempio Cincianini per minuti di playmaking così da ridare anche a Tambone che rientrerà visto che abbiamo risolto anche questa questione quindi magari potrà ritrovare tiro quindi io una guardia non la vedrei male insomma però deve essere Non sono troppi però adesso te la ribalto io la questione adesso a questo punto aggiungere un altro americano se Matteo fosse andato via ma se non va via cominciamo ad avere Cincianini, Tambone, Visconti, Maretto lui è il nuovo americano cioè qualcuno non gioca più poi Allora questo è un dato cioè comincia a diventare una scelta cioè cosa vuoi cioè in questo momento è una squadra che comunque ha dei problemi perché quando tu perdi queste partite chiaramente qualcosa non sta funzionando quindi devi decidere come lo vai a risolvere allora il potenziale interno qual è? prendiamo per buono quello che dice il presidente cioè che l'allenatore non ha chiesto nessuno che gli va bene la squadra che ha oppure ci rendiamo conto che c'è un buco come dici tu se aggiungi un altro americano vai a scombinare ancora di più questa squadra quindi vai a essere un ennesto, un equilibrio secondo me la questione di Tambone era reale cioè nel senso che ovviamente l'uscita del capitano avrebbe aperto uno spazio oggi devi decidere quanto Tambone ti può dare perché è evidente che il Tambone delle ultime giornate non è il giocatore che Pesaro è abituato a conoscere se il Tambone ti torna un giocatore da 10-12 punti cambia la questione se non vedete il tuo americano ce l'avresti dentro beh, all'inizio di campionato Tambone ha giocato con il rendimento di un americano non abbiamo capito forse nessuno cosa è cambiato negli equilibri forse devono trovarne di nuovi non vogliamo parlare di chi arriva o chi va via però è evidente che un problema ce l'hai il consorzio comunque ha detto se serve ci siamo questo è un messaggio adesso c'è una parida poi c'è un lungo break quindi non ci vuole fretta di nuovo non è Varese la gara che cambia sono tre settimane quindi tempo per riflettere c'è vediamo anche come è il rientro di Tambone che si è allenato da quello che mi risulta quindi insomma dovrebbe essere in campo a Varese ecco, a proposito di Tambone ci chiedono tante persone io raccolgo un po' di domande le metto tutte unite buonasera a tutti qualcuno ci può spiegare perché non ha toccato campo domenica faccio rispondere pure a te Betta vai pure sì, ma allora c'è un comunicato stampa alla fine della partita fatto proprio da Giovanni che è qua dove oltre a raccontare la cronaca e a mettere il tabellino si specificava in due righe che Tambone ha avuto un blocco alla schiena e quindi non era in grado di giocare ora so benissimo che molti non ci credono non ci hanno creduto o gli è venuto il dubbio perché visto che si era parlato tutta la settimana della sua possibile partenza il fatto di vedere N a volte succede che i giocatori in partenza non vengono fatti giocare per paura che possano infortunarsi e quindi possa saltare il trasferimento con danno per entrambe le parti anzi per tutte e tre le parti per chi lo aspetta per chi lo deve cedere e per chi deve partire però in questo caso così non è stato e ho le prove perché insomma delle persone che erano scappati tra cui anche il nostro Giovanni Zidda e anche Mirko Faccenda hanno visto insomma il problema di Tambo e quindi vogliamo credere alla buona fede poi sappiamo Betta che il mal di testa può provocare anche un mal di schiera quindi magari la tensione della settimana le tante discussioni esatto cioè può capitare anche questo un giocatore si può bloccare anche per questi motivi mettiamola così oggi sta meglio quindi le infiltrazioni hanno funzionato continuo allora abbiamo due domande su Scafati buonasera a tutti non credete che le parole di Ario sugli arbitri possano influire sulle decisioni delle prossime partite Raffaele e Betta allora adesso se Andrea può mettere sullo schermo la dichiarazione di Ario che ha fatto le sue scuse Giovanni se vuoi leggere Sì, allora iniziamo subito con le previsioni di Ario Costa fatte questa mattina in merito a quanto da me ha dichiarato nel corso della conferenza stampa di mercoledì pomeriggio in relazione all'operato e alla terna arbitrale del scorso match di Scafati ha rivolto le scuse ai signori Tolga, Sain e Bettini il mio intento non era sicuramente di offendere e non riconoscere il loro lavoro nell'intensità del momento ha pronunciato due espressioni che non fanno parte del suo stile la sua intenzione quindi era solo quella di rendere noto che il metro di giudizio non gli era piaciuto in quella partita e comunque ha già manifestato a termine della partita questa conta Ecco, è passato pochissimo tempo e Luigi Lamonica che è il commissioner degli arbitri quindi il numero uno diciamo che è stato anche un grande arbitro e adesso dirige, designa e giudica gli arbitri ha risposto con un comunicato che sinceramente a me sembra molto distensivo a nome del CIA che è il Comitato Italiano Arbitro dell'intero movimento arbitrale soprattutto di Tolga Gabriele Fabrizio che sono i nomi degli arbitri Terna che ha diretto domenica scorsa la gara tra Givova Scafati e Carpegna Prosciutto Pesaro accetto le scuse del presidente Costa al contempo sottolineo la necessità di lavorare insieme per trovare in ogni situazione modalità civili per manifestare le proprie opinioni pur comprendendo le diverse dinamiche di ogni società e i differenti stati d'animo di allenatori atleti e dirigenti nel corso di una stagione agonistica ribadisco l'assoluto rispetto dovuto alla figura arbitrale e prima ancora la persona il CIA rinnova la propria disponibilità ad un confronto sereno e costruttivo a me è sembrata Raffaele poi non so se anche tu Giovanni vuoi dire la tua una dichiarazione molto distensiva poi magari lo squalificheranno anche Ario ma tanto il presidente se viene squalificato non è che deve giocare quindi non è un grosso problema mi sembra che in questo comunicato di La Monica ci sia un po' un'ammissione che quell'arbitraggio non è stato all'altezza questa è una lettura che si può dare indiscutibilmente secondo me sono tre step il primo un errore totale dal punto di vista del presidente cioè almeno dal mio lato io non avrei mai immaginato dichiarazioni di questo genere così dure quindi probabilmente si è anche reso conto in maniera tardiva di avere sbagliato la Monica è stato incredibilmente comprensivo anche perché come arbitro la Monica era uno anche diciamo molto forte il collina del bas che non è sempre stato detto quindi era uno che il tecnico ce l'aveva facile però la Monica ha provato a abbassare i toni può essere che anche lui non sia piaciuto la direzione arbitrale del trio ci può stare però di certo ha provato improvvisamente abbassare i toni che nessuno si aspettava va anche detto che poi è arrivata l'AIA perché l'associazione degli arbitri insomma è stata un po' meno conciliante insomma ha detto noi temiamo emulazioni che sono cose che non si possono accettare insomma quindi l'AIA lo diciamo anche per chi non lo sa è l'associazione è il sindacato se vogliamo che rappresenta dal più piccolino al più grande degli arbitri quindi non è stato accolto bene il comunicato di la Monica dagli altri non l'hanno apprezzato probabilmente volevano più durezza perché comunque sono state importanti però adesso vedremo la procura federale perché va detto che la procura è il fascicolo l'ha aperto quindi sicuramente si arriverà una squalifica e non credo neanche che sarà brevissima secondo i confronti di Ario Costa però questo lo scopriremo a breve diciamo che ha aumentato le tensioni la domanda dice cosa può accadere beh però se dobbiamo pensare a una vendetta sul campo degli arbitri assolutamente anche perché io credo che questo sia il caso è stato interessante tra i vari dibattiti social hanno dato alcuni arbitri anche locali che dicevano più che altro potrebbe aumentare nell'arbitro la tensione del non sbagliare quindi c'è una non sanità nel fischio questo potrebbe starci magari per una giornata domenica o per due fischi poi in realtà parliamo di professionisti e anche questo non accadrà e soprattutto non conviene a nessuno in questo momento la famosa vendetta anche perché sarebbe troppo visibile cioè degli arbitri che cominciano a fischiare contro peso sarebbe troppo palese quindi non possono fare però diciamo che se due contatti per qualche azione non fischi quello ci può stare perché quella è la discrezionalità che ha l'arbitro però adesso vi racconto una cosa questa ve la voglio dire perché è molto curiosa allora un collega giornalista non vi dico di dov'è comunque che era andato a fare il commento a Milano per Milano Pistoia alla fine della partita ha orecchiato un commento da parte del del commissario degli arbitri che diceva ho saputo che a Scappati la partita non è finita in modo regolare ora probabilmente era una voce non precisa e non corretta che era arrivata lassù però vi ricordate quando Cinciarini ha dovuto aspettare prima di effettuare la rimessa perché qualcuno da dietro sulle transenne gli urlava o gli ha sputato eccetera quindi l'arbitro lo ha chiamato Sain mi pare lo ha chiamato al centro del campo ha fatto calmare ha fatto arrivare uno steward che è arrivato con calma diciamo e poi si è potuto riprendere il gioco io non mi scandalizzo perché dico anche al vecchio palace stava la gente sulle transenne abbiamo urlato e purtroppo sputato anche noi ai giocatori però sono anche passati tanti anni e magari certi comportamenti oggi sono diversi per fortuna però ecco era arrivata voce addirittura alla partita a Milano che ha scappato e è successo qualcosa di non regolare quindi secondo me ognuno ha le sue colpe ci pensi Ario ha già chiesto scusa quindi sa di aver usato delle parole che non vanno bene che non sono nel suo stile però il comunicato di la Monica a me mi suona di qualcuno che dice ok forse anche noi non abbiamo mandato una terna oddio veramente sulla carta erano ottimi esatto perché Bettini come terzo arbitro si pensava che fossero all'altezza però evidentemente non lo sono stati speriamo si chiuda presto questa pagina e si parli di altro però ecco diciamo che tutti hanno da metterla dietro le spalle in fretta soprattutto Pesaro benissimo ci arriva un messaggio da Giorgio da Petriot Petritoli secondo me Ario ha fatto bene a lamentarsi purtroppo c'è stato un arbitraggio di domenica non troppo giusto qui ognuno la pensa il tifoso sai il tifoso ci può starci ci scrive Titiana da Ponte Sasso domenica finisce 88 io non lo leggo non lo voglio più leggere perché purtroppo da più di due mesi non ci legge dimmelo lo voglio sapere 88 83 per noi sa che ti facci sognare a Masnago questo ce lo dice Paolo da Palino quindi da Urbino alla fine ci salveremo anche quest'anno alla faccia dei critici purtroppo che ce ne sono tanti Alfredo da Barbara di Ancona buonasera a tutti sono Claudio una domanda per Marchis quando tiri i liberi quel momento con le spalle è un fatto scaramantico o cos'altro se non sbaglio abbiamo già avuto parecchi americani con questo movimento qualcuno ti ha detto di fare questa cosa ce lo puoi fare come fai sbagliare le mie spalle come Kevin Durant se hai mai visto un giocatore di NBA credo che rilascio a questo bene in termini di rilasciare la linea mi ha aiutato molto durante la mia carriera più che un gesto scaramantico è un gesto che serve per rilassarsi perché viene dai tempi in cui era il college il college è notoriamente in America un contesto molto appassionante quindi diciamo molto caloroso in cui anche i tifosi avversari magari fanno dei gesti per farti sbagliare quindi lui ha bisogno semplicemente di trovare un modo per rilassarsi e gli è venuto un po' questo movimento particolare con le spalle una specie di danza si muovono loro ballano allora io rispondo quindi immagino che lui balli bene chiedi un po' c'è un grande ballerino sì io do questo mi piace e mi prepara per i giocatori è proprio come ho cresciuto quindi questo tipo di energia positiva che ho cercato a portare alla squadra solo per mostrargli che il giocatore è anche divertente non sempre serico mi diverto molto e è anche questo è un modo di approcciare le partite quindi spogliatoio Marquis balla un po' prima di farlo appena mi faccia ballare anche gli avversari senti Marquis come ti stai trovando a Pesaro non sono stati dei giorni facili due sconfitte i tifosi un po' arrabbiati il presidente che annuncia le dimissioni a fine stagione ecco queste cose influiscono nello spogliatoio sulla squadra come è la situazione per Roma prima di farlo venire da una situazione andare ad un altro team sempre spero che tutto si va bene con la squadra e tutto no matter la situazione spero che ti invitano con un'altra parola e ti trattano come sei qualcuno che non trattano come ti necessitano non trattano ok so I appreciate the GM everyone they welcomed me open arms the teammates I came into the team and now a few days later it's like I've been here and I really appreciate that from my teammates and the staff they made me feel as comfortable as possible the city Pesaro I've only been here two and a half weeks so I'm really still learning but I see it's very quiet you know very quiet city I do love to see the water though the beach I think that's a good vibe especially when it gets warm outside you know I'm a very simple person though like you know as long as I'm comfortable in my space and you know I see I'm around people that you know likes to be around me I think I'm fine and you know the Pesaro like you know I'm still learning where to eat the places to eat you know places to go so I think right now being in practice and everything you know I'm stuck to my home more than other than being outside but I do I did find a nice restaurant that I did like I think it's called Polo or something like that Polo something by the beach you know you know in front of the Big Bowl yes in front of the Big Bowl I think I like that restaurant right there so you're gonna catch me there catch me catch me at Polo ok I like that restaurant si sta trovando molto bene sia nello spogliatoio quindi con la squadra che con la società non può che spendere delle belle parole e ha girato poco perché comunque è arrivato da 15 giorni circa però si trova molto bene con i suoi compagni si trova molto bene in città sta iniziando a conoscerla pian piano e comunque le cose vanno molto bene anche in allenamento e spesso capita di trovarlo al Polo in un ristorante in zona palla non solo lui degli americani arrivati negli ultimi anni va bene allora salutiamo i gestori la prossima volta offritegli una pizza a questo ragazzo che vi ha fatto una bella pubblicità senti Raffaele è stata veramente una settimana molto particolare per la società con l'annuncio ufficiale di Ario che a fine anno lascerà la carica di presidente per te ha fatto bene a farlo adesso così da responsabilizzare tutti e dare il tempo alla società di riorganizzarsi potenzialmente anche trovare vediamo una parte della conferenza di ieri per dare il tempo alla società di trovare anche un sostituto di sistemare le cose per il futuro oppure ritieni fosse meglio trattare la questione internamente al club per non condizionare la squadra in un momento così difficile allora tanti punti nel senso a me sono diverse le cose che ahimè non sono particolarmente piaciute della conferenza stampa di Ario Costa e una forse anche il timing non credo che fosse il momento giusto anche se come avete dimostrato anche voi con determinati articoli era un po' il segreto di Pulcinella perché quando tu cominci a parlarle internamente al CDA e via dicendo a Pesaro non si riesce a tenere segreto niente queste notizie poi escono e quindi alla fine devi cavalcare poi c'è una scelta le scrivi e quindi spieghi oppure ti metti davanti ai giornalisti e quindi poi decidi anche di accettare domande e di rischiare nel confronto pubblico ha fatto tutte e due ha fatto tutte e due e secondo me anche questo è stato un ulteriore errore un po' non mi ha entusiasmato il modo in cui si è posto diciamo nel senso che secondo me anche questo vuol dire no? c'è modo e modo di dire determinate cose e insegnano altri casi insomma il tono vuol dire è arrivato un presidente molto carico molto sicuro di sé e che fondamentalmente si è autodifeso in tutto pur prendendosi le sue responsabilità e ha fatto questa uscita comunque strana perché in realtà è un vado via ma non vado via oggi quindi comunque hai fatto delle dichiarazioni importanti che potrebbero dare la sensazione di smobilitazione ma al contempo rimani saldo al tuo posto quindi vuoi dare quel senso di serietà che lui secondo me in 12 anni ha dimostrato perché io su questo e spesso a volte mi sono anche diciamo così preso anche critica in questi anni secondo me deve tanto realisticamente la palla canestro a Dario Costa e la sua gestione perché per anni lui è riuscito a fare campionati di Serie A con risorse inferiori a tante altre società il dato che lui ha detto no? cioè in 12 anni solo 4 squadre non sono retrocesse non è un dettaglio e quando negli anni Betta quante volte si deve dire ma è meglio andare in A2 piuttosto che in una stagione del genere e io dico che andare in A2 e poi tornare su dalla A2 è difficilissimo e costosissimo e quindi molto meglio difendere questa Serie A però secondo me poteva dire le cose meglio assumersi maggiore responsabilità non farlo in questo momento assolutamente e i tifosi si aspettavano altro perché tu hai scelto questo per la piazza non è che l'ha fatto per noi giornalisti lui questo l'ha fatto per mandare un messaggio a quei tifosi che forse non erano 50 ma anche questo capisci non sono 50 tifosi che mi contestano che mi fanno dire le cose no quel 50 ha suonato male ugualmente per la tua per la tua piazza per i tuoi 5.000 fissi che hai perché magari 50 sono venuti di fuori perché sono più calorosi 50 forse lui intendeva non voglio giustificarlo però quelli che erano ai cancelli a discutere dopo la confitta con Brind insomma tanti piccoli dettagli dialettici che ovviamente non hanno portato le persone a dire grazie che magari ci poteva stare anche se sono molto arrabbiati di questa stagione ma in realtà sono scatenato un effetto opposto ha aumentato il livore nei confronti del presidente che è un presidente che tra l'altro lascia e non si dimetti e anche questo capiremo probabilmente tra qualche mese cosa significa realmente beh lascia la carica di presidente però ha detto ha lasciato aperta una porta lui in realtà ha detto ho 63 anni ho l'esperienza e ancora un po' di energia per fare qualcosa nel mondo dello sport non è detto che lo faccia a Pesaro però io penso che se chi subentrerà al posto suo vorrà chiedergli di rimanere non so con quale ruolo poi lui ci penserà oppure farà tutt'altro adesso io non credo che lui abbia le idee già chiare su quello che vuole fare secondo me voleva soltanto lasciare un posto che gli ha provocato comunque molto stress io conosco Ario dai tempi in cui era il pivot della scavolina sotto canestro quindi ne è passato di acqua sotto i ponti e chiaramente come ha detto anche qualche allenatore un conto è giocare ci si diverte molto allenare può essere abbastanza divertente fare dirigente non lo è per niente e io sono d'accordo su questo fare dirigente non è divertente è molto stressante e Ario in questi anni avrà fatto tanti errori sicuramente non credo che sia diventato milionario lavorando per la VL per me è stato soprattutto una persona che ha sempre mantenuto dritta la barra poi dopo possiamo discutere sul fatto che questi soldi che sono sempre stati pochi perché sono pochi usati bene o non usati bene una delle critiche che la piazza fa a questa dirigenza è ok abbiamo uno dei budget più bassi della serie A ma perché perché non troviamo soldi con una città così appassionata un palazzo così bello un pubblico così numeroso eccetera ecco questo può essere una domanda successiva al fatto di dire ok siete stati bravi perché con così pochi soldi avete ottenuto magari tante salvezze difficili una mia domanda che non ha ottenuto risposta durante la conferenza stampa è stata proprio questa cioè ti aspettavi di più da questa città da un punto di vista economico ci sono grandi imprenditori ci sono realtà poi non è facile uno avvicinarsi allo sport metterci soldi perché mettere i soldi allo sport vuol dire fondamentalmente darli che il ritorno d'immagine noi continuiamo a parlare di ritorno d'immagine in realtà è abbastanza irrisorio anche se ho visto dei dati ho fatto una pagina a un quotidiano nazionale qualche giorno fa sul prosciutto di Carpegna Dopp insomma i numeri del prosciutto di Carpegna Dopp sono cresciuti in maniera incredibile qualcosa forse può aver influito anche la sua vicinanza allo sport perché magari non si conosce io mi ricordo i tempi al Sutor le premiata che oggi fatturano 80 milioni di euro non è che le conoscessero tanti quindi comunque un pochino può tornare assolutamente su quello che dicevi è tutto vero però comunque sono 12 anni che fa il presidente quindi nel bene e nel male è un ruolo che ormai hai preso e hai nelle tue mani in maniera forte cosa accadrà oggi? C'è un consorzio questo consorzio reggerà tecnicamente il consorzio è il proprietario della squadra se vogliamo quindi c'è un presidente un responsabile del consorzio che è quello che poi sarà deputato se resteranno a scegliere il nuovo presidente il nuovo presidente potrà essere una figura più brillante può essere un Del Moro a cui facciamo gli auguri di compleanno può essere un altro soggetto di Pesaro assolutamente si può trovare io credo che Pesaro aveva bisogno di un presidente mi verrebbe da dire un pochino più spumeggiante credo che Ario secondo me è stato ed è un eccellente AD potremmo dire uno che tiene i conti in ordine che è una figura fondamentale poi c'è il presidente che deve essere anche quello che fa sognare il front man di un gruppo rock esatto e questo secondo me un po' è mancato nel tempo e lui prendendosi questi doppi ruoli come dici tu si è caricato di una grande forza ma anche di una grande tensione di una grande responsabilità forse questo potrebbe essere stato diciamo un errore tattico però se Pesaro non ha mai preso una penalizzazione è sempre rimasta in serie A e torno a dire non è un dettaglio questa cosa non va mai dimenticata pur oggi nella voglia di buttare tutto al vento è anche merito loro poi il presidente anche quello che ti fa dire ma ragazzi forse due soldi in più ma non tanti in più li possiamo spendere ok perché come dicono i consorziati oggi noi ci siamo quindi non è per forza se tu hai 1 e 2 devi partire 1 e 2 a volte bisogna essere un po' più sfacciati l'imprenditore ha anche questo cioè il rischio di impresa è questo che non significa raddoppiare rispetto a quello che hai però il rischio di impresa è quello che ti permette magari di prendere McDuffie prima certo esatto Giovanni? sì allora c'è un po' di domande iniziamo subito buonasera complimenti a Raffaele Vitali sempre bello leggere la tua obiettività e competenza complimenti a Bettaferri poi volevo chiedere a vostra Betta se durante la pausa sai se ci saranno amichevoli allenamenti per integrare Marcus McDuffie e quindi purtroppo in questa pausa che durerà questa domanda io la giro a Giovanni Brucia perché i programmi della VL io credo di solito quando ci sono tre settimane di pausa forse alcuni giocatori possono andare a casa nella prima settimana non so però è previsto solo due giorni di pausa quindi mercoledì 14 di nuovo tutti in palestra per lavorare duramente quindi non si va a casa vabbè lui è appena tornato dall'America quindi non c'ha voglia di andare a casa adesso gli altri forse magari forse c'è da vedere gli altri comunque tutti in palestra da San Valentino e questo è un bel segnale anche questo cioè è una società vedi anche questo diciamo dei tifosi cioè magari non l'avrebbero fatto qui c'è una scelta uno c'è un allenatore nuovo e forse è giusto che li alleni e due è una squadra che è terz'ultima quindi bisogna lavorare non si può andare a casa non si può andare a casa in questo momento quindi vi faremo sapere se ci saranno ci dicono di mettere Raffaele Vitali come ospite fisso qui insieme a noi ve l'ho richiamato per la seconda volta è uguale esatto il giro l'ha già fatto tipo il draft buonasera sono Fabio e mi iscrivo anche con un generale da Vallefoglia buonasera a tutti gli ospiti Betta come mai Ario Costa dichiara di aver lasciato un anno fa dovrebbe avrebbe dovuto lasciare un anno fa la presidenza e perché secondo te non è entrato Lorenzo Pizza che secondo Fabio l'avrebbe fatto molto volentieri allora Ario avrebbe dovuto lasciare un anno fa lo dovete chiedere a lui cioè in effetti diciamo che è molto più bello andare via dopo un momento felice anche i grandi campioni di solito cercano di ritirarsi prima che gli venga detto che è ora che smettano e quindi Ario l'anno scorso dopo aver fatto la doppietta Final 8 Playoff se davvero avesse pensato di andare via forse sarebbe stato l'apoteosi dire ok vi ho riportato dove dovevamo stare adesso vi saluto invece purtroppo se ne andrà se va bene con una salvezza sofferta e speriamo non con un'altra cosa che non vogliamo nemmeno nominare su pizza la storia è veramente veramente lunga io vi prometto che un giorno magari ci avremo spazio e tempo vi racconterò quello che so perché tutta la storia è cominciata dall'intervista che Lorenzo Pizza fece con me al resto del Carlino dove lui dichiarò che voleva entrare in società che voleva prendere le quote che forse avrebbe fatto addirittura il vicepresidente tempo tre giorni il suo commercialista gli pose un veto clamoroso quindi io non lo so cosa è successo lì però non è vero che la VL non lo ha voluto è anche vero che lui ha fatto un passo indietro forse perché magari si è accorto faccio delle ipotesi che le potenzialità sue non erano abbastanza per reggere la serie A forse perché ha trovato magari una situazione dentro i documenti che non lo convinceva forse non si è sentito accolto non lo so un motivo o più di uno c'ha alcuni motivi insieme ma non è ancora troppo tardi cioè voglio dire io penso che se Lorenzo davvero vuole fare qualcosa nella palacanestro e la VL cerca qualcuno si rincontreranno se no ognuno andrà per la sua strada e credo che dentro il consorzio ci siano delle figure che potrebbero per me emergere e fare qualcosa di più di quello che hanno fatto finora guarda se questo aggiungo solo una cosa se posso perché ovviamente tutti hanno ricominciato a parlare di pizza è inutile negarlo perché alla fine sappiamo quello che avrebbe voluto quello che non c'è stato io credo che in situazioni come queste allora se si libera una poltrona di presidente secondo me non è il ruolo per pizza ok torno a dire secondo me il presidente deve essere una figura altro cioè non deve essere presente quello che mette i soldi ok è un altro aspetto secondo me in questo punto in questa struttura se resta un consorzio quindi anche lì lo stesso pizza adesso lo nominiamo poi farà lui insomma quello che vuole però sappiamo la passione bisogna anche sapere entrare no a casa di qualcuno perché alla fine è la casa di qualcuno può essere anche il più importante però c'è un galateo ci sono delle etichette nel consorzio c'è chi gli avrebbe aperto le porte c'è chi ha trovato magari modalità non confacenti però si libera una presidenza e questa è una certezza e questo rimette in gioco un CDA sono tutta una serie di posizioni quindi come dici tu Beta ci si può ritrovare si può parlare ma non è che pizza viene porta a 2 milioni di euro anche qui dobbiamo essere tutti consci però insomma è uno che ha la passione ha preso se vogliamo così il Loreto intanto per scaldare i motori nella palacanestro diciamo in questa maniera si può ragionare in questo Ario Costa diciamo che dà il tempo di strutturarsi e di pensare questo è giusto prendiamo il lato buono di quello che ha detto se avesse salutato a maggio sarebbe stata dura poi può organizzarsi questo teniamone conto questo teniamone conto questa società è sempre stata lenta quindi è meglio avere un po' più di tempo allora un saluto a tutto lo studio dall'Under 15 Biggi Pesaro che da lunedì disputerà la seconda fase contro Iesi alle 17 allo Smash i ragazzi seguono sempre tutta la voce le augurano che si salvi e rimpiangono le schiacciate di Johnson con il numero 88 ma sono pazzi per Visco che seguono sui social con il vlog Ambra da Monte Gridolfo scrive forza ragazzi fateci sognare domenica so però che alcuni tifosi non verranno mi dispiace ma qualcuno come me presente ci sarà per sostenere la nostra VL alcuni tifosi non verranno Betta si sa il motivo sai ci puoi dire un attimo ci chiede Ambra credo che sia di nuovo la questione dei biglietti nominali che i tifosi nostri Ultras non accettano che è già capitata a Napoli ha scappato e adesso penso anche a Varese quindi è una questione è una scelta personale cioè io non so come funziona perché noi avendo la credito stampa però credo ci siano biglietti dove tu devi dare il tuo nome e cognome e loro non accettano questo è un percorso che ha vissuto il calcio che ha avuto grandi contestazioni alla fine le curve hanno dovuto rassegnarsi la famosa testa del tifoso e via dicendo vedremo l'evoluzione hanno tolto le grate probabilmente con questo cercano ancora di avere un controllo allora chiedo senza l'ultima chiedo senza polemica se non fossimo in questa situazione Ario persona che stimo molto e complimenti per tutto quello che ha fatto nel corso dei 12 anni di VL avrebbe lasciato a fine stagione Riccardo questo dobbiamo chiederlo a lui però sinceramente io penso che lui sia proprio stanco e che anche è capitato anche che non sia stato bene in questi anni diverse volte insomma dai un po' di problemi ce li ha quindi se lui ha detto che si ritira per motivi personali va anche accettato evidentemente è arrivato ad aver speso tutto però questo ti fa sempre capire di come il messaggio non è arrivato rispetto a quello che uno voleva insomma ormai è andata allora andiamo adesso con Andrea al tabellone della classifica di Serie A torniamo in ballo con Marquis questa è la classifica vedete bene dove siamo a 10 punti di fianco a Treviso Varese è a 4 punti da noi però purtroppo ha vinto in casa nostra quindi è una partita molto importante adesso prima volevo chiedere una cosa a McDuffie quando parliamo di salvezza o di retrocessione nella testa di un americano che messaggio arriva? cioè riuscite a rendervi conto di un concetto che in America nello sport non esiste? non c'è questo concetto questo sistema delle processioni in America però siamo e sono pienamente consapevole se riesci a capire l'importanza per noi di questo mantendere no c'è l'importanza perché quando i played in Napoli to i think it was a big game to stay in the league so i definitely understand the difference and i mean i actually like it it makes it a challenge it gives the teams that in the other league to get a chance to move up but with this team we're not trying to move down we're trying to stay in this league so i think that's our biggest focus to stay in this league Sì, sono pienamente consapevole, questo è sicuramente l'obiettivo principale che dobbiamo darci da qui a fine stagione, ovvero quello di mantenere la categoria e io ne so qualcosa perché comunque diciamo tra virgolette c'ero già passato a Napoli in cui c'era stato anche un grosso spariglio salvezza due anni fa, quindi sicuramente è un qualcosa che ho già vissuto sulla mia pelle, quindi sono pienamente consapevole. Ok, invece con Raffaele facciamo i pronostici per le Final 8 che sono in arrivo, dopo la partita di Varese, il campionato si ferma, purtroppo quest'anno non ci siamo, sempre a Torino. Allora partiamo dal lato sinistro con Umana Venezia Estra Pistoia, chi vince? Venezia, facile. Milano Trento. Milano. Ok, dall'altra parte Brescia-Napoli. Secondo me qui è l'opposto l'anno scorso, vedo Napoli, sai come Brescia che aveva stupito tutti? L'outsider è Napoli. Sono come Napoli potrebbe fare il colpo. E invece Segafredo-Reggio Emilia? Berbia-Bologna, senza problemi. Quindi semifinali Milano-Bologna, no scusami, semifinali Milano-Venezia? Milano. Milano, e dall'altra parte hai detto Napoli, Napoli-Bologna? Bologna. Quindi finale? Bologna. Cioè Bologna vince la Coppa. Secondo me vince la Coppa. Milano tre partite decenti di Fria non riesce a fare, questo è abbastanza certezza. Allora, a Marquis non gli faccio a fare tutti i prossimi, ma solo chi vince è secondo lui, chi porta a casa la Coppa. I mean, they like Milano and Bologna every time, so I hope another team, you know, like Napoli can, I hope they can, you know, get it done, since I play for them, and they love me, so I love them too, so I hope they can, you know, make it to the finals. Spero Napoli possa ben figurare, anche perché comunque sono legato a Napoli, ho dei bei ricordi, anche loro sono legati a me, quindi faccio, tra l'altro, il tifo per Napoli, spero bene per Napoli. Tra l'altro questa formula è molto piaciuta nell'NBA, dove quest'anno per la prima volta hanno fatto, no? La Coppa, anche loro hanno fatto per vivacizzare un po' la regular season, no? La prima volta che l'NBA copia qualcosa dall'Europa. They copia, they learn it. First time, first time. They learn it is nice. They're picking up on a lot of things that they do here now, so I noticed that, for sure. Sì, sì, hanno copiato e hanno copiato bene. Sicuramente hanno avuto una buona idea. Ha avuto successo, quindi, anche in America, questa cosa. Was it successful? Yes, yes, it was, it very was. It keeps the season, like, more interesting, because, you know, everybody wait for the playoffs in NBA. It keeps the season more, like, okay, we gotta play the games, like, don't sit out, no games, like, you know. Ha reso sicuramente più... It's for money. Yeah, money, esatto. Ha reso più interessante la stagione, secondo me, di vista, che quello economico, perché, altrimenti, in America, la stagione è molto lunga, si aspetta la fine, per i play-off, quindi sarebbe stato una lunga, un lungo percorso, invece, più frizzata. Giusto. Bene, allora, andiamo adesso a vedere gli highlight di Varese. Cominciamo a parlare della prossima partita. Hanno perso a Trento. Vi aspetta una partita molto importante. Prima della sosta, cosa conosci di Varese, se conosci qualcuno? Questo lo conosci, Nico Mannion? Sì, è su noi, quindi... Io credo che sia la più grande cosa, non ho capito, ovviamente, abbiamo bisogno di capire cosa fare meglio, ma credo che è per noi che venire con un vinto, io credo che sia la più grande cosa. Non possiamo perdere, non possiamo perdere, come abbiamo fatto nel ultimo gioco. Da domani inizieremo un po' però a studiare il dettaglio di Varese, anche in termini di scouting, quindi di analisi. Sicuramente sappiamo che sarà un match molto intenso, su un campo caldo, molto importante. So che all'andata hanno vinto loro e Mannion lo conosco, anche lui sarà uno degli uomini da fermare di Varese. Sicuramente dovremo fare una buona prestazione perché la partita è molto importante e al stesso tempo è anche molto impegnativa. Senti, Raffaella, l'andata a Mannion fece il diavolo a 4, 21 punti nell'ultimo quarto senza che nessuno riuscisse a fermarlo. Cosa prevedi a livello tattico? Potrebbe essere ancora Ford a spendere lì dopo averlo provato su Jefferson o è un azzardo? Ford ha dimostrato di poter marcare anche i piccoli, secondo me soprattutto i piccoli che tirano da 3 punti, più che quelli che penetrano in questa maniera molto forte. Io, non lo so, avrei un'idea, sì assolutamente, è un uomo di gomma quando è in giornata. L'abbiamo visto, l'abbiamo capito tutti. Io ci vedrei bene Maretto, se io fossi in sacchetti proverei dei minuti Maretto, con il rischio che Maretto, diciamo che è uno di quelli un po' penalizzati, spesso che gli fischiano dei falli da ragazzo, come fosse il ragazzino, come suol dire. È un ragazzino. Però diciamo non è particolarmente tutelato sui falli, però Maretto che è l'unico che ha le gambe che potrebbe tenere quantomeno il primo palleggio di Megno, perché sui piccoli siamo un po' carenti, quindi poi Ford può essere arma tattica, però io fossi in sacchetti un Maretto, ci penserei. Lo proveresti. Il problema è che c'è anche un altro uomo che è un po' arrabbiato con noi, che all'andata non ha giocato, che è Davide Moretti, che secondo me deve scaricare un po' di bombe, speriamo che non gli entrino, però io ho un po' paura della partita di Davide, sinceramente. Io sono uno che a Moretti a me piaceva, quindi ne ho scritto abbondantemente, è un play vero, scelte tattiche, inizio stagione, tra società, allenatore che magari voleva un play americano, quelle cose che non funzionano, chiaro che se in giornata, l'abbiamo visto a peso, cioè Moretti ti può fare anche zero, però semplicemente si accende all'uscita, a tiro, abbinato, tra l'altro può giocare in coppia tranquillamente anche con Megno, perché Megno prende tra in maniera molto forte e se vuole apre gli spazi, è un'arma in più. Però almeno mi preoccupa meno fisicamente, diciamo che Moretti è uno che puoi marcare, capito, cioè ci vuole mettere tambore, sinceramente, Moretti lo possono tenere tutti. L'altro è più un problema tecnico. Sì, anche se, dobbiamo dire la verità, gli entrò una bomba a Pesaro allo scadere dei 24, che poi decise fondamentalmente il sorpasso e un po' anche l'inerzia psicologica della partita. Adesso siamo un po' più preparati, no? Magari dopo avergli visto fare questa roba. Che poi parliamo di loro, poi c'hanno una serie di americani, insomma, hanno la mano un po' calda. Diciamo che Varese si vuole. All'anno vinto e sono qualificati per la quarta di finale di Euro Cup. Assolutamente. 103,96. Quindi gambe stanche ma testa freschissima. Adesso sono carichi, sì, perché hanno raggiunto un obiettivo, anche perché questa coppa sembrava un po' uno spreco di energie. In realtà adesso con l'approdo ai quarti prende senso il sacrificio che hanno fatto per la coppa. Speriamo che siano un po' stanchi, ecco, è l'unica cosa che possiamo sperare. Sono andati in trasferta. Hanno 30 punti e 7 assi. Diciamo che potrebbe essere una partita molto da sacchetti questa. Perché comunque è una squadra di fronte che corre, segna, gli piace giocare. Si parlava delle schiacciate che mancano a Pesaro. Secondo me Duffy le schiacciate, se prende quello slancio in contropiede come ha dimostrato, potrebbe essere il giocatore giusto. E questa potrebbe essere una partita in cui ci fa vedere quel lato atletico che ha. Poi tra l'altro per sacchetti il ritorno a Varese è sempre così importante, no? È dove ha vissuto la parte più bella della sua carriera, credo. Carichera tutti. Che ci tenga parecchio. Poi verrà accolto bene, quindi dai, vediamo. Ancora abbiamo delle speranze di andare alla sosta magari con un sorriso, chissà. Giovanni, hai altre domande? No, volevo comunicare che l'Olimpia appena ha vinto e terminata ora l'Olimpia-Real Madrid, l'Olimpia 81, Real Madrid 76. Però... C'è cosa incredibile. Però... Eurolega è qualcosa di speciale. Avevi appena detto che tre partite buone non le faceva in Coppa Italia, però batte il Real Madrid è tanta roba. Volevo comunicare che domani, venerdì 9 febbraio alle ore 11, si trarà la conferenza stampa di Meo Sacchetti che presenterà il match di domenica 11 febbraio alle ore 20 sul parquet di Varese, direttamente li potete seguire sulla pagina Facebook della Victoria Liberta Spesa. Allora, prima di dare la soluzione del contest, vi rubiamo altri due minuti, facciamo un attimo riposare, se vuoi puoi dire a Mac Duffy che cos'è l'album dei ricordi. Noi ogni settimana dedichiamo la nostra pagina finale a un giocatore che è di solito americano, che magari lo faremo alla fine anche con gli italiani, ma ce ne sono tanti di americani che sono passati qua e dei quali rischiamo di dimenticarci. Uno di questi è De Marco Johnson, che per me è uno dei giocatori più forti mai venuti a Pesaro e giocava proprio nel ruolo tra l'altro di Marquis. Adesso vediamo questo video dove lui fa il canestro decisivo contro la fortitudo, quindi già solo per questo lo amiamo. Nato a Charlotte il 6 ottobre del 75, DMJ ha vissuto due esperienze nella VL, arrivò alla prima volta nella stagione 2000-2001 in coppia con Melvin Booker e poi tornò a stagione in corso nel 2001-2002 lasciando Varese e giocando altre 18 partite in maglia scavolini. Alla forte di 2-0-6, aveva una stazza ingombrante ma era molto più rapido di quanto potesse apparire, con guizzi di classe davvero splendidi. Uscito dall'Università di North Carolina nel 98, viene scelto dai New York Knicks al secondo giro, ma approda in Italia l'Olimpia Milano per la sua stagione da rookie, prima della grande occasione con i Knicks dove però gioca solo 5 partite. Nel 2000 sbarca Pesaro dove gioca 40 partite con 731 punti conquistando una semifinale play-off contro la Fortitudo. L'anno dopo si trasferisce a Varese ma torna per completare la stagione ancora in rival adriatico, incidendo però molto di meno rispetto alla precedente avventura. La sua carriera prosegue poi un po' in tutta Europa, dalla Grecia alla Spagna, dalla Slovenia a Israele, gioca anche a Porto Rico, in Argentina a Cipro. Appese le scarpe al chiodo nel 2010, intraprende la carriera di allenatore, un anno alla Providence Day School di Charlotte e altri quattro come vice con la Hampton University, prima di uscire dal mondo del basket. De Marco, se ci sei ti salutiamo perché vedo che spesso lui commenta ancora oggi, assolutamente sulla pagina Facebook della Victoria Libertas, molto spesso io trovo i commenti di De Marco Johnson, quindi vuol dire che è rimasto affezionato e noi siamo rimasti affezionati a lui, quindi siamo contenti. Un giorno tra vent'anni noi faremo un album dei ricordi su di te, se tu fai qualcosa di speciale, ok? Tu hai fatto qualcosa di speciale per noi. E ci ricordiamo di te per sempre. Bene, allora Giovanni, vai. Sì, la partita finì 85-84 per la vittoria Libertas-Pesaro e Marquis McTuffe segnò 10 punti, scusate, apro il messaggio che ci ha mandato la prima persona che ha risposto, sbancò il pala barbutto l'8 maggio 2022, l'AVL imponendosi sulla GV Napoli 85-84 dopo un tempo supplementare, in quell'occasione Marchi segnò 10 punti in 34 minuti, 2 su 8 da 2, 1 su 4 da 3, 3 su 3 dai liberi, 3 rimbalzi, una stoppata, 2 palle terzi, un eco parata, 3 pali subiti e 7 di valutazione. Ragazzi, ditemi chi può essere. Max Belegni. Solo lui poteva mandare un messaggio così. Bravo Max che vince la sciarpa, sappiamo che anche la scorsa puntata ci hai provato, quindi sono contenta che ce l'hai tu questa sera al collo. Bene, allora io ringrazio tutti, thank you very much for your presence here, you're a very nice person. Thank you so much. Quindi ci è piaciuto molto conoscere Marchi questa sera, ringrazio ancora una volta Giovanni per la sua traduzione, Raffaele Vitali, non so se vuoi tornare la terza volta, dobbiamo andare in playoff però, perché... Esatto, va bene? Diamoci questo appuntamento. Facciamo questa promessa. Grazie a Giovannino Zidda, come sempre puntualissimo, la iSocial ad Andrea Sabattini in regia. Noi non ci vediamo giovedì prossimo, perché anche noi sospendiamo il programma, però siccome questo anno bisestile ha un giorno in più, il 29 febbraio, compleanno di Gioacchino Orsini, torniamo anche noi. Ecco, il giorno dell'inaugurazione del Palace Cavolini. Vediamo se sarà vero. Io sono come San Tommaso, finché non lo vedo. Non ci credo, ma sarebbe bellissimo, perché è un giorno che non esiste praticamente, quindi può succedere di tutto. E quindi saremo con voi il 29 febbraio per presentare il ritorno in campo della VL, che sarà il 3 marzo contro Brescia, e quella sera metteremo in palio anche i biglietti. Quindi grazie a tutti, arrivederci, e buona serata. Adesso potete guardare anche Sanremo. Da più di un secolo sul territorio, macchini ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti e rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Riosalso di Tavuglia. Macchini ceramiche, sempre al vostro servizio. Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti. pronti a rinnovarsi, anzi, a crescere, proprio come noi. Cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. hai visto quante novità al Conad di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conad di Montecchio!